C'è anche il Caffè della Pace tra le antiche botteghe di Roma che rischiano di chiudere i battenti. Lo storico ritrovo di artisti e letterati potrebbe avere così i giorni contati. Sentiamo Nazario Basili. Su uno spicchio di Romanità domani non si alzerà la saracinesca. Il sistema commerciale che cambia, il caro affitti, la crisi economica, fanno calare il buio su vetrine e laboratori. Eppure piccoli negozi e artigiani hanno rappresentato da sempre il tessuto economico romano nato con la città. Il declino non comincia da oggi. Nel 1991 erano 5.000 le botteghe artigiane nel centro storico di Roma, appena 3.000 dieci anni dopo. Nei primi tre mesi del 2013 Roma ha perso 658 artigiani e 900 negozi per un totale di 3.500 posti di lavoro. Dal mosaico della storia della città eterna sta per estaccarsi un altro importante tassello. Il Caffè della Pace, sull'omonima via, a due passi da Piazza Navona, causa sfratto, rischia di chiudere nei prossimi giorni. Il locale, come testimoniano incisioni dell'epoca, esisteva già nel XVIII secolo. Tra i suoi frequentatori abituali, pittori come Maffai, Guidi e Trombadori, poeti come Ungaretti, registi come Bolognini e Monicelli. Il presidente di CNA, Roma Città Storica, e dell'Associazione Botteghe Storiche, Giulio Anticoli, ha inviato una missiva in Campidoglio perché vengano prese iniziative per cercare di arginare questa moria di esercizi commerciali tradizionali che fanno parte della tradizione capitolina al pari di altri monumenti che la rappresentano.